ragazzi si arriviamo mamma voglio stare vicino a papà sempre così basta guardiamo buongiorno cosa vi porto un caffè grazie per me una limorata grazie va bene cara devi togliermi una curiosità ma perché sei scappata dalla sala operatoria prima dell'operazione hai atteso tre mesi per questo intervento guarda non ne parliamo c'era l'infermiere che continuava a ripetere non si preoccupi è un intervento semplicissimo e tutto questo non ti ha tranquillizzato ma lo diceva il chirurgo ma perché sei così agitato? devo fare l'analisi del sangue il mio fratello mi ha detto che mi spiegherà il dito io ho paura adesso perché sei così agitato? perché io devo fare l'analisi delle urine io ho paura io ho paura io ho paura io ho paura